E' evidente che tutto è migliorabile, noi abbiamo fatto credo il meglio di quel che si poteva fare e come dicevo questa squadra ha sicuramente delle qualità che attraverso il lavoro riuscirà anche a rendere di più e meglio. Siamo partiti da nulla, per costruire un organico, una squadra forte, alcune volte si impiegano anni, noi siamo appena da tre settimane. No, no, ma è tutto comprensibile.